Perdonami per averti rinchiuso lì, ma dovevo farlo. O avresti distrutto il mio piano? Chi lo sa, magari potrei avere compagnia lì dentro, se quel dannato Negi Saino sta setto! Ci vuole tempo per portare tutta la magia dei questi in un altro mondo. Tre giorni sembrano un'eternità. Voi poni non avete capito nulla. L'amicizia non è magica, l'amicizia è potere! E ora che Twilight e le sue amiche sono fuori dai piedi, Equestria si inchinerà davanti a me, la regina dell'amicizia! Äh! Ahahahahaha! Ahahahahaha Ahahahahaha Ahahahahaha